Ascoli senza scampo dinanzi ad una Juventus dilagante. Il tema chiave della gara è rappresentato dal boom degli uomini di punta bianconeri. Platini, che significato ha questo esaltante settebello da parte della Juventus? Niente, sono due punti solo, basta. Come ci siamo detto, preferisco vincere la sette volte 1-0 che una volta 1-7-0. Dunque siamo andati subito in vantaggio, abbiamo sblocato il risultato e dopo era più facile. Il reparto avanzato Juventino ha indetto la domenica del mutuo soccorso. Nell'azione del primo gol è Platini a lanciare Bonnik verso Corti, giustiziato dal polacco. Lo stesso Bonnik regala a Cabrini un pallone d'oro girato dal terzino sul palo. La palma dell'altruista di turno passa a Platini, che vede e serve Tardelli smarcato. Il cross dell'azzurro consente a Rossi di rompere il ghiaccio stile Mundial. Penzo non si limita a creare varchi per Rossi, Platini e Bonnik. Su azione Tardelli-Cabrini, l'ex veronese si esibisce in un esemplare pallonetto. Riprende intanto il waltzer dei favori. Di scena ora la coppia Platini-Rossi, in una partita nella quale la Juventus ha frequentato il triangolo facile. In avvio di ripresa opportunità per lo stordito Ascoli. Per un atterramento di Novellino ad opera di Scirea, Paparesta concede il penalty, ma Tacconi replica così a De Vecchi. Qualche attimo dopo è Perrone a stendere Penzo. Platini, più glaciale di De Vecchi, non perdonerà il portiere avversario. Attenzione ora alla prodezza di Bonnik, che Rossi sceglie come partner. Il polacco trafigge di prepotenza Corti. Il rallentì dimostra che Bonnik ha deciso fin dalla partenza della palla dal piede di Rossi il da farsi. Peso del corpo in avanti, compasso della gamba sinistra sul piede di appoggio e chi s'è visto, s'è visto. L'Ascoli si scuote nei limiti di un match di pura rappresentanza. Nicolini impegna Tacconi. Infine è Vignola, dalla lunga distanza, a completare l'opera. 7 a 0. Un cappello.